Il mondo è in ebollizione, ma pochi sembrano accorgersene e preoccuparsene. Le brutture della quotidianità rendono ormai insensibili. È un po' come la cattiva notizia a cui purtroppo si fa l'abitudine. Una ragazza viene picchiata la sera di Pasqua nel pieno centro di Genova e i passanti, numerosissimi, si girano dall'altra parte. Sta per scoppiare la guerra nucleare per colpa di uno strano personaggio come King Jong-un e un senatore della Repubblica Italiana, un certo Razzi, scoperto più da Maurizio Crozza che dagli elettori, parte per la Corea del Nord con la presunzione, lui che a stento parla l'italiano, di poter fare da pacere per evitare follie e guerrafondaie. Siamo alla farsa, alla terribile farsa, mentre il mondo è in ginocchio di fronte al continuo esodo dai paesi in guerra verso le coste europee. Cercano altri lidi i disperati dei barconi, ma prodono l'Italia creando preoccupazione e un crescendo di proteste che neppure Papa Francesco riesce a sopire. Si parla di nuovi 13 morti e di 8500 persone salvate in soli tre giorni, in quella bacinella che si chiama Mediterraneo. Pasqua di passione in attesa della ressurrezione, che eviti nuove disastrose guerre per colpa della follia di alcuni. Sì, perché la Pasqua non è soltanto l'esodo di chi cerca un po' di spazio sulla spiaggia, un po' di sole e un po' di mare. Ma la follia si annida anche a casa nostra, dove sicuramente, senza rendersene conto, c'è chi inneggia al dittatore coreano piuttosto che al neopresidente degli Stati Uniti. Due uomini con la voglia matta di rimettere in moto l'industria bellica, non solo quella delle armi leggere, ma anche di missili e cannoni. Ultima sconvolgente notizia, però, arriva da Piazza Dante. Sì, avete capito bene, Piazza Dante nel pieno centro di Imperia, Oneglia, dove si è svolto un carosello di auto dei supporter, nel nostro paese, del presidente turco Erdogan. In esclusiva vi mostriamo alcune immagini di chi nel capoluogo della provincia, insignita di medaglia d'oro al valore della resistenza, a pochi giorni dal 25 aprile, inneggia un referendum vinto trabrogli e che prepara il ritorno nella Costituzione della pena di morte. La comunità turca Imperia è particolarmente forte, soprattutto a Porto Maurizio. Unica speranza è che non si creino tensioni. Non vorremmo tornare al Mamma Li Turchi e ricominciare con una nuova crociata. Unica speranza è che non si creino tensioni.